Oggi, il venerdì 30 marzo, riapre il Faro della Vittoria. Siamo molto contenti di questo perché il Faro della Vittoria è un monumento molto importante sia a Trieste che a livello mondiale, gestito dalla marina militare in concessione alla regione. Gli orari per l'apertura sono dal venerdì 15-19, il sabato e la domenica 10-13-15-19. Extraordinario, in questi giorni di Pasqua, è aperto dalle 10 di mattina alle 19, orario continuato. Il tempo di ultima salita è 18.30, per cui mezz'ora prima della chiusura. Grazie. 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 Grazie.